Ciao Gigi, sono arrivate tantissime domande per te sull'hashtag AskAzzurri. Sei pronto? Siamo prontissimi. Allora cominciamo. Carla Mangado ti chiede, la parata più bella o quella che ti ricordi con più piacere? Italia-Paraguay 3-1 nel premondiale del 98, ho fatto una gran parata a Parma. Martina Fabris, chi è il compagno di squadra in nazionale più matto? Ma il più matto, beh, si giocano la Palma, Balotelli e Cassani. Questo è particolare. Armando Obinu, ti è mai successo di dover andare in bagno mentre eri in porta? Se sì, come hai risolto? No, non mi è mai capitato per fortuna perché prima di incominciare la partita passo regolarmente a svuotarmi. Alam Rauf, chi era il tuo idolo da bambino? Il mio idolo come portiere è sempre stato Thomas Incono del Camerun. Cecilia Pagannone, con quale giocatore hai particolarmente legato in questi anni di nazionale? Pirlo, De Rossi, Chiellini, Gattuso, Cannavaro, Grosso, insomma, tanti. Andrea Pacini invece ti chiede, ci farai mai vedere come sai fare la parata dello Scorpione? Me lo chiede spesso anche mio figlio di fargli la parata dello Scorpione, solo che dopo essere stato operato di ernia, posso dire che è meglio non provarci. Brian Botello, ti vedremo con la maglia azzurra anche nel mondiale 2018? Bisogna sicuramente stare con i piedi per terra e pensare anno dopo anno, soprattutto quando si ha la mia età. Gianluca di Puglia, qual è il tuo piatto preferito? Il piatto preferito sono gli spaghetti a carbonara senza dubbio. Joao Ximenes, dopo aver risposto a tutte le domande, canta una canzone italiana per noi. Un amore così grande, un amore così... Ciao ragazzi, un grande saluto da Gigi Buffon a tutti gli utenti di Vivo Azzurro. Ciao ciao!